siamo nell'arena con 50 pikmin a testa dopo aver fatto una partita e averla subito castellata perchè ci fate la stifo ora sono convinto di essere oh avanti trombetta strana e con il giu ah io ti fico almeno avanti trombetta strana estrapolate i gay estrapolate i gay che significa questa pratica dovresti sapere lo te scusa eh che mi sono perso ehi qualcuno mi vede? mi sono perso mi sono gay tra l'altro brutti gay mi stanno mangiando i pikmin io vorrei essere più contento perchè non riesco a controllarli i lanciari non ce l'ho trovato dai mi li mangiano tutti non è giusto brutti gay oh dove va quel pisa ma guarda vai c'è un bruttone il bruttone me l'ho uccisi tutti tutti me l'ho uccisi si ma io non lo sapevo che palle adesso adesso io parco con 10 b inutili più pieni meno meno male che l'ho creato un po' l'ho ucciso hai ucciso un bruttone si non so se non so se sono parlando dello scherzo di bruttone non so l'ho ucciso l'ho ucciso scemo scemo ho perso un piccino l'ho ucciso attaccatelo facciamo così prima uccidiamo i ruttoni poi poi inizieremo a farcela verla quando avremmo visto che non ci sono più ognuno potremmo ok no voi dovreste passare per uccidere un collettino ah basta per carlo bene si se lo prendo in testa posso prenderlo un po' poi lo puoi anche picchiati oh oh ah ha deciso di un colpo oh 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 c'è un altro bravo bravo pic con un piccino solo scemo c'è ucciso si sta venendo a alzare il colpo no più di 50 non possiamo avere c'è ho perso il sole per strada non trovo più ok 50 ce li ho tutti io io non andrò più bene io faccio strage di cadarmi ecco non è due usi delle mostre strane cosa trovo? un ruttazzo si ruttazzo che eh? dentro un tizio c'era una pallina ammazzateli ok ora ho un po' di piccini anche io ho trovato il nuovo di quella si cazzo no i piccini strani oh ho ritrovato il piccini non so dove fosse il minitrone cos'è meno? cos'è che cos'è? ah è la roulette puoi ma far energizzare tutti i piccini energizzare? cos'è? ma sono andato tutti i piccini ma sono andato tutti i piccini ma sono andato tutti i piccini ti attacco cari kickman ma aspetta no stanno attaccando i tuoi tornate da papino non attaccate il nemico io ho perso il tempo fino adesso ma tu hai già vinto lo stai già parlando tutti certo mi ero ma hai caccato ma hai caccato ce l'hai tutti i piccini ti è vero ma hai caccato stanzi che guarda totale non c'è non c'è io non c'è io non c'è tutti qua che pilla che sono non ha senso mi fate perdere hai vinto che folle però cosa hai vinto? ma è bruttissimo con il 50 piccini a parte di quanto tu ce l'hai sempre tutti i piccini in corso che folle io ero vicino a me non avevo uno tu quattro ma non è giusto beh no a un certo punto mi sono spostato molto vicino a te per prenderli vabbè abbiamo tempo per un'altra vittoria e un'altra partita vieni guerra? fai quello tu burrone scuro no quello dove c'era il mister niderano si gloriosissimo ragno ma che sfiga vabbè allora abbiamo sempre cose schifo oh quante piccini abbiamo? 5 volte no 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 cosa è sta cosa? Sì, sì, sì. non c'è nessun amico anche tu l'hai già trovato sì, mi sono un po' riuscito a guardare sì, i miei hanno appena finito in questo momento non so cosa sia tanto cosa succo non so cosa sia tanto cosa succo non ci sapevi dire aspetta non so cosa succo all'attacco nel picnic siamo di meno, ma facciamo scafo ok 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 mentre loro muoiono io devo prendere quasi ma vado a timorizzi a scuola 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 oh cacchio su tutti la scuola ora tu stai parlando secondo il giorno dovevo riprendere 50 picmini no, ti avevo da prendere 50 cioè non c'è più 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 stai morandose guasso i stanno la tutta grb c è grazie dai muovete, non sbrigatevi perché non avete il fiore però sui insomma sui insomma il fiore sui insomma il fiore mi sono perso e mi sono non perso ma ci sono dei nemici e non sapete ci dichiari guerra? sii non vai mi hai colpito ti ho colpito? no c'è un gay in testa di nuovo aspetta che gay in testa sei per chi sai che c'è uno che sta cercando di portare un coleto è vero adesso sono tutti la che sono ricreati chi hai vinto il battaglio? i tuoi non è giusto perché eravamo uguali però ci muovi ti ragno rapido ma dai siamo uguali vincono i tuoi ci arrivano anche 7 tra l'altro non guarda c'è un culo tra i melli e perché dovrebbe succedere così? io forse avevo anche ferito no ci avevo tutti io ferito perché avevo trovato il cuore ma ormai hai vinto ma sempre di culo un po' questi miei sono lentissimi forza ragazzi siete più lenti di un vulcano sono anche felice sono anche felice ma è un po' veloci scusi sono più lenti di una caffetta di montagna questa amici qui mi sono perso che parla ma che io mi sono perso? ma è bomba? ti prego la mia bomba? si te li ha seccati tutti e non vale però cos'è sta cosa? veloci veloci mi hanno già perso erano 10 uff ho perso un'altra che bello beh dai almeno per una volta ho battuto in qualcosa si grazie però non vale ma se cosa facciamo? e vinci sempre tu io sei più big man di me perchè? e poi negli scontri vengono sempre tu sempre